Musica Venerdì 18 ottobre 2019, buongiorno, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa mattino 6, l'apertura come sempre dedicata alle prime pagine dei giornali abruzzesi che oggi troverete in edicola iniziamo con il centro, con la prima pagina di Pescara, il titolo di apertura riguarda un fatto di cronaca accaduto nella giornata di ieri nell'area vestina a Penne in particolare, intossicati dai funghi 11 in ospedale vedete i malori dopo il pranzo, la più grave è una donna che è stata trasferita nella serata di ieri all'ospedale di Pescara, sempre ieri in tribunale, sempre a Pescara c'è stata l'udienza per l'inchiesta sul depistaggio della tragedia di Rigopiano, abbandonati dallo Stato, pesante denuncia di uno dei legali dei parenti, dei 29 morti vediamo nelle cronache ancora Pescara, furti nei negozi, i commercianti chiedono aiuto e poi la fontana di Ettore Spalletti in stato di abbandono proprio nei pressi del Palazzo di Giustizia, sempre a Pescara e per il Pescara Calcio domani torna il campionato dopo la sosta Biancazzurri che giocheranno alle 15 allo stadio Adriatico con lo Spezia non ci sarà il portiere Vincenzo Fiorillo, non al meglio dopo un problema al Polpaccio non sarà rischiato dal tecnico Luciano Zauri, al suo posto giocherà castrati andiamo a vedere in alto altre due notizie la prima la svolta nell'inchiesta, i due carabinieri arrestati a San Salvo tornano in libertà e poi il caro pedaggi, sindaci e strada dei parchi fanno fronte comune c'è stata una riunione a Carsoli vediamo la pagina di Chieti, Lanciano Vasto, sempre del centro Daico 600 opera in sciopero Chieti scatta la protesta dopo lo stop al contratto integrativo aziendale vediamo di spalla Chieti protezione civile vertice disertato il prefetto contro i sindaci e poi ci spostiamo a Lanciano in questo caso cade, la barriera cede la barriera e l'auto precipita, paga la provincia e poi ci spostiamo a Vasto la ASL di Chieti, Lanciano Vasto investe sull'ospedale San Pio esami più veloci andiamo a vedere la prossima prima pagina che è quella di Teramo vittima di usura, debiti congelati decisione innovativa del giudice per un imprenditore fallito e poi vediamo Gran Sasso De Micheli Gisonni sarà il commissario lo ha annunciato il ministro De Micheli e poi più in basso Bagnasco inaugura i corsi della Paolo VI il cardinale sarà a Teramo per questa cerimonia e poi a Giulia Nuova la nuova pista ciclabile sarà in Travertino andiamo a vedere anche la prima pagina sempre per quanto concerne il centro di L'Aquila, Avezzano e Sulmona partiamo dal capoluogo di regione L'Aquila rinasce, punta sul turismo crescono le attività ricettive e le presenze ma la perdonanza non tira vediamo poi Avezzano morì nel canale un milione di risarcimento ai familiari e poi Carsoli l'Arta scopre il mistero del cattivo odore dopo le segnalazioni vediamo ancora l'Aquila compie 107 anni l'uomo più vecchio della regione una regione quella abruzzese con tanti ultracentenari vediamo la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero partiamo dalla parte alta della pagina sul rigopiano un processo unico il gruppo Antonella Di Carlo accoglie la richiesta di riunificazione dei due filoni di inchiesta sulla strage del resort e sui depistaggi per coprire le responsabilità del ritardo nei soccorsi e poi la buona sanità diabete e cecità abruzzo capofila del progetto di prevenzione e poi concerti e spese elettorali si allarga l'inchiesta su Cuzzi nel mirino anche di Pietrantonio e la di Carlo vediamo poi a centro pagina Bagnasco Bagno di Folla a Teramo la visita in attesa dell'arrivo del Papa del Cardinal Bagnasco vedete nella foto e poi San Salvo arresti annullati tornano liberi i due carabinieri dalla tribunale del riesame un colpo all'inchiesta il comandante riprende servizio Teramo la vigilessa vince in appello voglio tornare vediamo poi in basso parliamo di clima chi dice noi il professore che guida il fronte anti Greta andiamo poi nella parte alta della pagina per vedere altre notizie autostrade 40 anni fa il casello di Assergi avvicinò l'Aquila al Gran Sasso e poi autostrade oggi doccia fredda da Bruxelles da dicembre torna infatti l'incubo aumenti il calcio la serie B delfino i dubbi della vigilia Fiorillo e centrocampo i nodi Fiorillo probabilmente non giocherà ripartirà dalla panchina Palmiero che torna a disposizione dopo un mese vediamo la prima pagina del quotidiano la città ricostruzione prima la speranza questo è il titolo di apertura costruttori e tecnici propongono soluzioni per velocizzare le pratiche puntando sullo sviluppo e poi la lexio magistralis del cardinale Bagnasco la visita a Teramo il sisma come Ponte Morandi restate uniti come i genovesi vediamo ancora Fondazione Tercas d'Alberto e Brucchi alleati contro il golpe dei due paoli e poi Comune battuto ancora sulla vigilessa licenziata vediamo ancora Martinsicuro invaguito ma respinto la palpeggia in macchina Silvi il progetto della ciclopedonale va azzerato e poi Val Vibrata in lutto per la scomparsa del professor Pasquale Rasicci e poi un altro titolo vedete in basso data zero Daniele Silvestri domani sera in concerto a Roseto degli Abruzzi lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi andiamo a vedere invece l'edicola nazionale partiamo dal Corriere della Sera emendamenti la manovra è sotto assedio vedete il titolo Renziani e Movimento 5 Stelle vogliono cambiarla in aula scontro sui contanti quota 100 e sugar tax e poi il conto da pagare 40 miliardi vedete la stretta di mano tra il premier inglese Boris Johnson e il presidente dell'Unione Europea Jean-Claude Juncker l'intesa Brexit a fine 2020 è stato trovato l'accordo e poi Trump ottiene da Erdogan il cessato del fuoco in Siria la tregua dunque arriva 5 giorni per far ritirare i curdi vediamo la Repubblica 120 ore per non morire la sporca guerra Trump e Erdogan uniti per imporre la resa ai curdi tregua per consegnare le armi andare via poi i turchi avanzeranno la denuncia attaccano con napalm e bombe al fosforo Ankara risponde non è vero l'Europa fermi il massacro dopo il tradimento degli USA l'unico argine può venire da Bruxelles l'invito hanno già aderito scrittori filosofi e tre premi Nobel vediamo anche su Repubblica la notizia che riguarda la Brexit perché c'è l'accordo con l'Unione Europea domani voto a rischio a Londra vediamo anche in basso un'altra notizia conto e così cambieremo l'IRPEF aliquota del 20% fino a 28 mila euro vediamo il fatto quotidiano ecco chi ci ruba 170 miliardi di euro all'anno questo il titolo di apertura poi Brexit l'accordo Johnson Unione Europea rischia il disastro alla Camera e poi Leopold ora Renzi ingaggia i guru della campagna di Trump vediamo anche il giornale una battaglia di civiltà tetto alle tasse proposta di Forza Italia nella carta un limite al fisco vampiro e poi Siria c'è il cessato il fuoco Erdogan ora batte cassa vediamo il mattino di Napoli quota 100 svuota i comuni i vigili spostati negli uffici questo è un titolo che riguarda la campagna ma che un po' comuna tutti diciamo tutte le regioni tutte le amministrazioni perché con quota 100 ci saranno molti pensionamenti e problemi di organico Siria Turchia vedete sia la tregua curdi cinque giorni per il ritiro e poi il caso parliamo di calcio De Laurenti si attacca in signe adesso cresci oppure vai via e dunque polemica tra il patron Campano e l'ex giocatore del Pescara vediamo il messaggero nazionale Tagli Irpef dalla lotta all'evasione questo è il titolo di apertura manovra Conte avvisa Di Maio non ci sarà un altro consiglio dei ministri barricate di Movimento 5 Stelle e Renziani scontro su contante partita IVA e carcere agli evasori vediamo poi a centro pagina Stati Uniti Turchia ok al cessato il fuoco cinque giorni per il ritiro dei curdi dalla zona di sicurezza e poi anche sul messaggero ritroviamo la notizia che riguarda la Brexit c'è infatti l'accordo tra Johnson e l'Unione Europea voto appeso ad un filo domani decide Westminster ma resta il no di unionisti nordirlandesi laburisti e democratici vediamo anche la pagina la prima pagina in questo caso del quotidiano il manifesto la Turchia sospende i raid sulla Siria mediazione americana via i curdi dalla zona Cuscinetto ma lì ora ci sono soldati di Assad e russi e poi vedete innocenti evasioni questo è il titolo che riguarda la manovra perché scontro fra Di Maio ed il Premier Conte il capo grillino chiede un nuovo consiglio dei ministri ma dopo il no del Premier convoca per oggi la squadra di governo dei Cinque Stelle ed insiste carcere per i grandi evasori e indulgenza per commercianti idraulici e tassisti braccio di ferro anche sul tetto al contante questo è il risvolto del titolo del manifesto dal manifesto passiamo al Libero paese martoriato dalle tasse l'Italia si ribella in piazza contro gli Aguzzini e poi radicali pagati per aprire le porte all'immigrazione questo è il titolo dell'articolo della prima pagina che troviamo più in basso le vere ragioni economiche del buonismo della Bonino scrive libero vediamo anche il sole 24 ore i rifiuti sono il petrolio del futuro c'è l'intervista a Claudio Descalzi amministratore delegato dell'ENI e poi Brexit c'è l'accordo con l'Unione Europea sabato il verdetto di Londra vedete la stretta di mano tra Johnson e Juncker a Bruxelles vediamo anche la stampa il quotidiano di Torino Erdogan cede agli americani e tregua intesa con Pence e Pompeo il segretario di Stato Pompeo che tra l'altro molti di voi ricorderanno pochi giorni fa era stato in Abruzzo nel paese natale dei suoi avi e proprio Pompeo è stato decisivo in questa trattativa per il cessate il fuoco vediamo anche questa foto sempre nella parte alta della pagina accordo con l'Unione Europea Johnson vede la Brexit Westminster dica sì o salterà tutto vediamo poi più in basso la cronaca politica italiana la minaccia di Zingaretti da oggi intanto ci sarà la Leopolda se Renzi boicotta il governo alle urne con Conte Premier così Zingaretti vediamo anche il tempo la fregatura dell'accordo di Malta migranti la strombazzatissima intesa con l'Unione Europea sulla redistribuzione è un danno per l'Italia se in vigore costretti a prenderne il doppio di quelli arrivati suicidio per far dispetto a Salvini scrive il tempo andiamo a vedere anche il secolo.it Bavaglio in facoltà Trento impedita una conferenza a Fausto Biloslavo non è di sinistra Fioramonti tace e poi vediamo primo piano Meloni promessa all'Umbria governeremo meglio del PD e poi accordo Johnson Barnier la Brexit ora è ad un passo e poi sms di Renzi al Premier posso farti cadere subito questi titoli che riguardano la politica andiamo a vedere anche il quotidiano La Verità sempre con la prima pagina Conte abbassiamo le tasse infatti sono 12 miliardi in più scrive La Verità il governo delle parole in libertà e poi l'indagine per corruzione vedete a centro pagina sistema emiliano promozioni in cambio di voti questo è l'altro titolo del quotidiano La Verità vediamo anche il secolo XIX la nuova banca Carigen lascerà la borsa e punterà sul territorio la prima intervista con i tre commissari dopo il via al piano di salvataggio e poi vedete tregua in Siria si turco agli americani cinque giorni per il ritiro dei curdi e poi vediamo quest'altra notizia in basso fisco la riforma di Conte via due aliquote IRPEF al 20% intanto c'era una notizia che riguarda anche la politica politica locale genovese strappo di Biasotti lascio Forza Italia Berlusconi voleva che attaccassi Toti così ha detto il coordinatore Ligure vediamo anche avvenire vuoto esistenziale il titolo di apertura del quotidiano della CEI manifestazione del forum delle famiglie e pochi bambini scusate subito i sostegni bonetti ad avvenire così faremo il nuovo assegno per i figli già da gennaio e poi Brexit raggiunta l'intesa Westminster deve dire yes è pronta poi una tregua con ritiro dei curdi gli americani ottengono cinque giorni di cessate il fuoco andiamo a vedere anche un titolo che riguarda la città del Vaticano stato Vaticano perché nei giorni scorsi erano arrivate e se ne era parlato su diversi giornali le dimissioni del comandante dei servizi della scorta del Papa Gianni e ci saranno nei prossimi giorni novità per quanto riguarda la sostituzione dell'ormai ex comandante della gendarmeria Vaticana Gianni che per vent'anni ha prestato servizio per lo stato del Vaticano servizio ora di Papa Bergoglio in precedenza anche di Benedetto XVI e di Papa Giovanni Paolo II andiamo a vedere poi sempre su avvenire la notizia che riguarda la Brexit l'abbiamo già vista prima ora Westminster dovrà però dire sì perché altrimenti potrebbero esserci nuovi problemi e tra l'altro pesa il no del partito unionista nordirlandese che è alleato del Premier Johnson lasciamo dunque le pagine dei quotidiani nazionali le prime pagine possiamo tornare al quotidiano il centro per ripartire da pagina 2 per parlare di sanità della prevenzione a tutto campo perché basta un clic per scoprire le malattie gravi dell'occhio il centro di offatolmologia di Chieti scelto come riferimento nazionale per la telemedicina e domani fino al 27 ottobre sarà possibile avere controlli gratuiti della vista in diverse piazze della nostra regione dei capologhi di provincia in particolare e poi intersindacale sanitaria abruzzese idea di secondo livello e riordino della rete ospedaliera esperti a confronto oggi a Pescara e intanto si avvicina il periodo invernale influenza dal 30 ottobre i vaccini gratis parte la campagna della regione l'obiettivo è coprire almeno il 75% delle persone a rischio influenza la tragedia di Rigopiano lo Stato lascia solo i parenti dei morti avvocato accusa non si è costituito parte civile al processo per depistaggio il giudice riunisce intanto le due maxi inchieste però arriva subito la replica la protezione civile nella nostra lettera interpretata male e poi vedete in basso quel giorno che l'ex governo promise aiuti Salvini e Di Maio annunciarono 10 milioni di euro per le famiglie delle vittime ma i soldi non sono ancora arrivati più tardi vedremo il servizio su quello che è accaduto ieri in tribunale a Pescara andiamo avanti parliamo di autostrade a 24 e a 25 uniti contro la stangata pedaggi patto sindaci strada dei parchi la riunione di Carsoli segna una svolta alle vigilia dell'incontro che ci sarà lunedì con il ministro De Micheli per bloccare gli aumenti e poi turismo una divisa identica regionale per 700 maestri di sci e poi giro d'Italia il giorno clue il 24 Febbo annuncia l'ufficializzazione della tappa San Salvo Tortoreto vediamo poi in basso frane alluvioni arrivano i fondi finanziati 40 interventi per oltre 13 milioni e ora intanto la palla passa ai comuni siamo alle cronache dalle province Pescara emergenza sicurezza furti nei negozi cresce la paura i commercianti chiedono aiuto al comune l'assessore cremonese rassicura già rafforzati i controlli e ora sono in arrivo 300 telecamere e intanto ladri acrobati in un palazzo di Viale Muzzi in pieno centro a Pescara si arrampicano sui balconi e entrano negli appartamenti dalle finestre anche con gli inquilini in casa sicurezza nei locali a procura manda i vigili del fuoco al Tortuga le indagini dopo gli esposti dei cittadini i beni tolti alla criminalità la casa confiscata ai Rom sarà della città ieri c'è stata questa consegna il sindaco ha preso possesso del piano terra di un edificio di via Salaravecchia da decidere la destinazione ne ha parlato proprio ieri ai nostri microfoni il sindaco di Pescara Carlo Masci annunciando che questo atto è stato e sarà il primo di altri atti analoghi perché ci sono altri 27 immobili che confiscati verranno assegnati al comune di Pescara allora andiamo a sentire l'intervista con il primo cittadino prosegue la lotta alla criminalità del comune di Pescara questa mattina è stato consegnato all'amministrazione comunale un immobile confiscato alla malavita sì oggi è un bel giorno per la comunità pescarese perché il comune di Pescara ha acquisito un immobile che era oggetto di atti criminosi al patrimonio dell'ente e quindi da oggi in poi questo immobile che è ubicato in via Tevere numero 5 angolo via Salaravecchia sarà a disposizione della città e quindi sarà a disposizione dalle associazioni di volontariato o delle associazioni che si occupano di sociale o per esigenze di residenzialità pubblica comunque tutte questioni che riguardano i pescaresi perché oggi finalmente questo immobile che fino a qualche tempo fa era in mano a delinquenti oggi invece è in mano ai pescaresi per bene è un grande segnale questo è il primo di 27 immobili che saranno acquisiti al patrimonio dell'ente comune di Pescara nei prossimi mesi tant'è che il prossimo consiglio comunale vedrà approvata una delibera in cui ci sarà proprio l'acquisizione di questi beni al patrimonio comunale andiamo avanti restiamo a Pescara distretto sanitario sud pronto tra un anno Blasioli il consigliere comunale del PD visita il cantiere andiamo avanti l'indagine sulle società fallite imprenditore va delle tasse sequestro di beni per 2 milioni e poi padre Guglielmo il conosciutissimo famosissimo frate della chiesa della Madonna dei Sette Dolori che è stato anche amico di Padre Pio ha compiuto 90 anni gli auguri anche da parte proprio del sindaco di Pescara Carlo Masci che abbiamo appena ascoltato ascensori rotti a scuola disabile portata in braccio e poi incidente sulla rive era ferito motociclista di 41 anni l'arte in tribunale La Fontana di Ettore Spalletti vuota e abbandonata l'opera dell'artista scomparso una settimana fa e transennata da anni il sindaco di Pescara dice pronto un finanziamento di 60 mila euro per i lavori siamo a Montesilvano viabilità e sicurezza anziano in bici investito sulla ciclabile ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara e poi torna io canto cambiando argomento sempre a Montesilvano piccoli talenti sul palco domani e domenica al Paladin Martin la versione autunnale del concorso canoro dedicato ai bambini finto terremoto ma evacuazione vera con 200 studenti siamo sempre a Montesilvano dove c'è stata una esercitazione di protezione civile e soccorso con gli allievi di materna elementare e media della scuola delfico vediamo poi di spalla città Sant'Angelo chiusura della Nike appello di sinistra italiana ai parlamentari abruzzesi vediamo poi in basso spoltore ambiente nominati fedele e febbo due consiglieri nel comitato di controllo della società partecipata vediamo ancora viabilità più sostenibile con i monopattini elettrici Francavilla il progetto finanziato dal Mise con la somma di 130 mila euro prevede la realizzazione di due stazioni di ricarica a Pretaro e nelle vicinanze del porto e poi Parco Valle Anzuca siamo sempre a Francavilla a rischio l'altalena per bimbi disabili proseguiamo appenne intossicati dei funghi in undici finiscono in ospedale una donna la più grave ricoverata a Pescara e poi popoli carenza di medici nel centro diabetologico a rischio le prenotazioni delle visite nella struttura dopo il pensionamento di tre camici bianchi in basso oggi a Loreto Prutino prima giornata dell'amicizia italo-russa proseguiamo siamo alla pagina di Chieti del centro carabinieri liberi mamancino e sospeso San Salvo i due militari libertà dopo due settimane ai domiciliari il maresciallo però non potrà svolgere la professione per un anno da come leggiamo in questo titolo maltrattamento a scuola ok alle parti civili San Salvo Egip Pasquale accoglie la richiesta di 20 famiglie dei ragazzini responsabilità estesa al ministero e a Dortona oggi ci sarà la commemorazione di pace a 20 anni dalla morte proseguiamo lavoro taglia gli stipendi daico scatta la protesta in sciopero 600 operai dopo lo stop al contratto integrativo cronaca guida ubriaco sei volte oltre il limite denunciato 61enne Teatino e poi sempre a Chieti blitz nelle case del centro espulsi due polacchi irregolari controlli della polizia locale nel capoluogo Teatino siamo alla pagina di Teramo del quotidiano il centro vittima di usura il giudice gli congela tutti i debiti è uno dei primi provvedimenti a favore di un imprenditore teramano fallito i pagamenti e i decreti ingiuntivi resteranno bloccati per due anni messa in sicurezza dell'acquifero Gran Sasso sì del ministro De Micheli a Gisonni come commissario in basso Bagnasco ai politici siate vicini alla gente l'arcivescovo di Genova a Teramo inaugura l'anno accademico del centro di teologia Paolo VI vedete nella foto il cardinale Bagnasco a fianco nella visita teramana proprio a fianco di un prelato locale anche della scorta vedete alle sue spalle proseguiamo siamo alla pagina di Atri Pineto e Silvi partiamo dalla parte alta della pagina il maître di sante stroncato da un infarto a 44 anni oggi ci saranno i funerali a Silvi e poi a Pineto nasce il tavolo regionale per salvare il mercatone 1 ieri l'incontro tra i sindacati i lavoratori l'assessore regionale Fioretti ed il sindaco di Pineto Berrocchio Silvi proteste per la raccolta differenziata e poi in basso ancora a Silvi a processo per calunnia assolto un 51enne siamo alla pagina dell'Aquila del quotidiano il centro la sentenza automobilista negato nel canale familiari risarciti con un milione di euro comune di concentrazione vicino ad un'azienda da chiarire le cause in visita a Campo 78 dove morì suo nonno sul Mona l'83enne cucera in pellegrinaggio nel luogo di prigionia in cui il suo congiunto perse la vita andiamo avanti ancora pagina dell'Aquila e provincia parlanti spegne 107 candeline in Abruzzo sono 500 gli ultracentenari l'uomo originario di Sul Mona ma da tempo all'Aquila ha condotto una vita sana con pasti leggeri la regione l'Abruzzo è quarta nella classifica nella misura del rapporto tra le persone con oltre un secolo di vita e di residenti vediamo poi a centro pagina ancora l'Aquila stalking e botte alla cognata condannata una sessantenne poi in basso schiaffeggia la moglie arrestato ad Avezzano San Benedetto dei Marsi ancora cronaca coltiva marihuana nell'orto finisce nei guai un 37enne siamo arrivati alle pagine dello sport allora possiamo fermarci per la prima parte di mattino 6 tra poco torneremo in studio per vedere insieme le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero del quotidiano la città e poi nell'ultima parte parleremo ovviamente di sport di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 siamo le pagine interne del messaggero ripartiamo dalla pagina 2 la cronaca regionale il nodo autostrade pedaggi torna l'incubo senza piano di gestione aumenti da dicembre e poi i tetti alle cliniche acerbo regali ai privati avevamo ragione noi dice l'esponente di rifondazione comunista e poi clima crescenti guida il fronte degli anti Greta e poi addio a Rasicci la Val Vibrata perde il suo cantore andiamo avanti siamo alla cronaca di Pescara dal messaggero in questo caso dai concerti e rimborsi elettorali gli ex assessori Moreno di Pietro Antonio e Simona Di Carlo entrano nell'inchiesta su Cusse attraverso un filone diverso la finanza acquisisce altri documenti a Palazzo di Città l'indagine sul concorso e l'ipotesi di un'intesa a tre e poi beni della male immobile di Via Tevere assegnato alla collettività abbiamo visto prima il servizio con l'intervista al sindaco di Pescara Carlo Masci e poi allarme stipendi al museo Genti d'Abruzzo il comune ripiana il CDA si dimette vediamo poi in basso maxi sequestro di beni da 2 milioni dopo l'arresto del dopo l'arresto Nuova Tegola per Barbetta leggiamo da questo titolo del messaggero e poi tragedie e depistaggi processo unico verso la riunificazione dei due filoni d'inchiesta sul rigopiano il gruppo accoglie la richiesta di una dirigente di prefettura indagata tocca al presidente del tribunale nominare il nuovo giudice diventa centrale il nodo delle telefonate di soccorso occultate allora andiamo a vedere sul su quello che è accaduto ieri a Palazzo di Città il servizio realizzato per noi da Stefano Recanati ottobre denso di appuntamenti per quanto riguarda il processo sulla tragedia di Rigopiano questa mattina presso l'aula numero 8 del tribunale di Pescara è stata la volta dei vertici della prefettura sette in tutto tra cui l'ex prefetto Francesco Provolo assistito dall'avvocato Gian Domenico Cagliazza insieme a Sergio della Rocca nessuno però dei sette oggi era presente in aula si è trattato della prima udienza di fronte al giudice Antonella Di Carlo che ha rimesso al presidente del tribunale Angelo Bozza l'opportunità di riunione del processo per depistaggio all'interno del filone principale la decisione ha visto un po' perplessi alcuni componenti del comitato vittime di Rigopiano che attraverso l'avvocato Niccolò Baldassarre valuteranno tutte le decisioni da prendere beh era prevedibile da un certo punto di vista la riunione però come comitato ci riserviamo di valutare se questo questa eventuale riunione possa portare giovamento alla ricerca della verità della giustizia e alla celerità del procedimento perché di certo un'eventuale riunione andrebbe ad allungare i tempi per quanto riguarda la dottoressa Pontrandolfo che nulla sa del processo penale di Rigopiano relativo al disastro andare a stare in quel processo per un micidio colposo io sinceramente non ne vedo il motivo la ragione non siamo neanche in grado di difenderci ad oggi ovviamente non conosciamo le carte non abbiamo avuto la discovery non ci spettava avere la discovery di quel processo quindi non ne sappiamo nulla se non quello che si sa dai mezzi di informazione durante la mattinata l'avvocato Romolo Reboa difensore di quattro famiglie ha tirato fuori un documento datato 29 settembre nel quale secondo lui lo Stato ha lasciato tutti soli senza soldi e non costituendosi quantomeno parte civile io credo che rispetto alle valutazioni del processo Rigopiano oggi abbiamo visto qualche cosa di estremamente brutto in danno dei cittadini se volete ve lo spiegherò perché però mi dovete un secondo togliere la telecamera perché devo tirarvi fuori un documento che è nuovo che nessuno conosce ancora con il riferimento all'evento Rigopiano tutto ciò che non ha funzionato indipendentemente dalle singole responsabilità si ritiene utile significare che la stessa sia appare totalmente istituita di ogni fondamento in punto di fatto di diritto pertanto a questa amministrazione non può essere imputata alcunché e nulla quindi risulta dalla stessa dovuta relativamente alla vicenda in parola il capo del dipartimento Angelo Borrelli oggi noi abbiamo assistito e abbiamo avuto la controprova che lo Stato vuole chiamarsi fuori dal risarcimento nei confronti della vittima di Rigopiano questo è la notizia giornalistica questo è il fatto vero il resto ciò che diceva il giudice su delle costituzioni di parte civile speriamo che vengano ammesse perché siamo da soli i nostri assistiti e quelli che hanno avuto il coraggio di sprendere di affrontare la marca da borro da 27 euro sono soli 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 lo Stato li ha lasciati soli si tornerà in aula il 25 ottobre molto probabilmente con un nuovo rinvio dettato questa volta dallo sciopero degli avvocati cambiamo argomento violenza in ospedale la paziente è attendibile il racconto della ventenne ricoverata a psichiatria viene valutato con attenzione e poi vedete in basso incidente da brivido sulla riviera motociclista vivo per miracolo e poi anziano investito sulla pista ciclabile l'impatto con un'auto a Porto Allegro la ragazzina finisce in casa famiglia genitori ancora assenti dopo il coma etilico la 16enne pescarese è stata dimessa dall'ospedale Rapposelli emergenza sicurezza dice il consigliere comunale di Pescara intanto furto con spaccata ennesimo in un bar cittadino decibelle sicurezza controlli a tappeto al tortuga e poi dieci intossicati dai funghi tutti ricoverati dopo pranzo andiamo avanti siamo alla pagina dell'Aquila il Maxi nasce sotto l'albero ci sono soldi per tre anni ce l'intesa Palazzo Ardinghelli pronto a novembre intorno a Natale la presentazione ufficiale alla città l'annuncio di Barrera segretario della fondazione omaggio a Spalletti stava realizzando un'opera intanto parte la stagione della sinfonica per l'occasione riapre il ridotto del teatro dell'Aquila e poi metro pronto il progetto per rimuovere le rotaie siamo sempre all'Aquila in basso l'inchiesta auto importate evadendo l'iva venti indagati siamo alla seconda pagina dell'Aquila del messaggero una nuova torre accanto alla regione la Rutilio Tower sarà un centro direzionale e commerciale accanto al Palazzo di Vetro che ospita la sede della Giunta comune mezzi pubblici sei pensiline smart Zafferano appuntamento con Zonfa a San Pio delle Camere e poi la ricorrenza Gran Sasso da 40 anni più vicino il 17 ottobre del 1979 l'apertura del casello autostradale di Assergi la sfilata dei VIP e poi Emiciclo una giornata per ricordare Ferdinando Bologna scomparso lo scorso aprile all'età di 94 anni e poi De Angelis musicista aquilano tournè negli States da solista siamo alla pagina di Avezzano sul Mona partiamo dalla Marsica ad Avezzano la giudice si sposa tribunale bloccato sulla questione si attende il summit del 21 ottobre a Roma Carsoli piantagione di droga arrestati tre albanesi ancora Avezzano bro botte tra minori la procura della Repubblica apre un'inchiesta vediamo poi più in basso per sul Mona futura successo incoraggiante e ancora sul Mona Ezio Barcone l'ultimo saluto con il miserere vediamo la pagina di Chieti del quotidiano e messaggero De Cesare e Rispoli la sfida under 40 per fare il sindaco il presidente del circolo degli amici ha avuto alcune proposte ed è pronto ad impegnarsi Zappalorto segretaria cittadina del PD noi puntiamo non puntiamo sui nomi serve solo un progetto che supera i partiti maschere al marrucino i 66 ammessi al colloquio l'elenco nell'articolo nella parte alta della pagina e poi blitz della polizia municipale in sei casi espulsi due polacchi dieci comuni presenti l'ira del prefetto Barbato nel corso della riunione convocata ieri per parlare di protezione civile e poi stadio Angelini ecco il cronoprogramma per quanto riguarda il recupero la riapertura e il ritorno all'attività presso lo stadio comunale di Chieti andiamo avanti siamo a San Salvo il tribunale liberi i due marescialli il riesame ieri ha annullato l'ordinanza cautelare gli avvocati sono soddisfatti recepite le nostre istanze in città la notizia è stata accolta in maniera positiva la stazione però resta agli ordini del Maggiore Consales Villa Santa Maria dentro Palazzo Caracciolo è nato il Museo del Cuoco San Salvo l'unimaltrattati il giudice ammette il Ministero e poi Lanciano mercato gestore all'attacco una denuncia e due esposti ancora Lanciano Italia Viva Matteo Renzi fa proseliti anche in città con il suo nuovo partito siamo ad Ortona comune il caso barriere architettoniche l'opposizione reitera la richiesta i soldi ci sono ma sono usati per altro siamo a basto parliamo di sanità emodinamica il direttore generale della ASL di Chieti Lanciano Vasto Schail dice non ci sono i numeri siamo alla pagina di Teramo del messaggero la ricostruzione durerà 30 anni iter burocratico troppo lungo e poi braccio di ferro vigilessa licenziata in appello vince di nuovo la Capponi ora voglio tornare a lavorare senza più azioni ostili il caso sta meglio l'impiegata della prefettura ricoverata per Legionella via ai controlli e poi vedete in basso anche il messaggero parla della visita del cardinal Bagnasco in città per l'inaugurazione dell'anno accademico del Paolo VI bagno di folla per il cardinale in attesa dell'arrivo di Papa Francesco la vita continua meraviglia e poi la pagina di Giulianovo 80 giorni per una risonanza e polemiche sulle liste d'attesa una donna denunciato i tempi blibici per un attac ancora Giulianova corre se ne va e firma l'ultima demolizione Martinsicuro palpeggia una 24enne fermato siamo arrivati alle pagine dello sport allora prima di parlare di sport andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano la città lo facciamo partendo da pagina 3 via le sostanze pericolose dal Gran Sasso vedete il titolo di apertura la regione riscrive ai laboratori di fisica nucleare per spostare 2300 tonnellate di prodotti chimici funzionari regionali ricordano che l'istituto nazionale di fisica nucleare aveva tre mesi per presentare tutta la documentazione in basso il ministro De Micheli conferma Gisonni commissario il governatore Marsilio ha sollecitato la nomina dell'ingegnere scelto mesi fa andiamo avanti credito il ruolo dei confidi non sta per finire le associazioni di categoria chiedono un incontro all'assessore Mauro Febo per discutere dei problemi di accesso Rigopiano riunito il filone dei depistaggi l'inchiesta bis è stata accorpata a quella per la morte delle 29 vittime deciderà un solo giudice abbiamo visto prima il servizio e poi la manifestazione premio Borsellino torna a Teramo dopo 14 anni terremoto ricostruire la speranza prima dei territori oggi il convegno di costruttori e tecnici su come velocizzare la ricostruzione e investire nello sviluppo in basso parliamo anche di economia rifinanziata la legge per le piccole e medie imprese del cratere sismico andiamo avanti la visita del cardinale Bagnasco a Teramo protagonista al Duomo il cardinale genovese che invita i terramani a restare uniti nella ricostruzione come hanno fatto i genovesi con il ponte Morandi in basso no al doping l'urlo dei ragazzi al convegno diocesano nella sensibilizzazione coinvolti 260 studenti delle scuole superiori corsa contro il tempo per il corso vecchio siamo a Teramo difficile rispettare la scadenza natalizia a questo ritmo il comune preme sull'ati persia macinati vediamo poi in basso l'appello conferma la vigilessa va reintegrata è stato rigettato il ricorso presentato dal comune di Teramo da Alberto e Brucchi alleati sulla fondazione siamo sempre a Teramo sindaco ed ex sindaco difendono la presidente Salvatore la cui poltrona è nel mirino dei due Paoli vediamo poi la prossima pagina pasticcio Goldreck in maggioranza siamo ancora a termo il movimento 5 stelle si schiera con l'artista e critica quanto avvenuto nell'amministrazione d'Alberto dissesto 700 mila euro scusate per frane e alluvioni il sottosegretario della giunta regionale di Annuntis annuncia il via libera del ministero al decreto che finanzia quattro interventi nel Teramano incontro a San Gabriele Antonio Parrozzani il precursore della moderna chirurgia per cuore e cervello se ne parlerà a Isola del Gran Sasso in basso siamo a Valle Castellana in arrivo l'affidamento degli impianti di risalita di Monte Piselli piano da 50 milioni per difendere la costa siamo in Val Vibrata in particolare ad Alba Adriatica l'annuncio del sottosegretario di Annuntis all'incontro sull'emergenza erosione che si è tenuto proprio ad Alba restiamo in Val Vibrata siamo a Corropoli addio al professor Pasquale Rasicci il giornalista ricercatore storico e scrittore è scomparso all'età di 93 anni Martin Sicuro un'amicizia da incubo stalker 25enne nei guai Giro d'Italia Tortoreto fa il bis in rosa a distanza di un anno cronaca siamo sempre in Val Vibrata espulso un tunisino coinvolto nell'inchiesta della DDA dell'Aquila infine Corropoli incontro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pagina di Giulianova e Mosciano nominato l'ufficio tecnico del comune completata la riorganizzazione dopo il ciclone Castrum ancora Giulianova scelta la commissione di garanzia e sempre a Giulianova ricordati i carabinieri morti durante la guerra in basso siamo invece a Mosciano Sant'Angelo il centro storico di Mosciano assediato dai piccioni allo studio il posizionamento di piccionaie e metodi ecologici di contenimento siamo alla pagina del litorale di Teramo partiamo da Silvi ciclabile chiesto l'azzeramento del progetto l'opposizione porterà la proposta in consiglio e poi Atri prevenzione cardiovascolare in ricordo di Lorenzo al via il progetto di sorveglianza sanitaria voluta dal fratello dell'avvocato scomparso in basso Pineto l'amministrazione comunale incontra i rappresentanti del sociale siamo alla pagina di Roseto Roseto degli Abruzzi borghi più belli con il bonus facciate il consigliere Aloisi invita i cittadini a utilizzare gli sgravi previsti nella manovra cronaca sorpreso dai carabinieri mentre vende il metadone a Roseto ad Atri città ferma a un anno e mezzo dall'arrivo di Ferretti Basilico Giuliani e Marcone convocano un incontro con i cittadini per denunciare l'immobilismo dell'amministrazione comunale in basso siamo a Notaresco Gadit e volontari ripuniscono le strade e scovano gli inquinatori seriali siamo arrivati alle pagine dello sport allora prima di parlare di sport in chiave locale andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla gazzetta dello sport la manovra di Conte una doppia soluzione di gioco ancora più italiani in campo le scommesse bastoni ed esposito e da Gabigol i soldi per un big ciclone Aurelio in signe si decida Mertese e Caione in Cina ci vadano il patron del Napoli parla tutto campo lanciando frecciate ai suoi giocatori e poi vediamo in basso il Milan con Pioli che si prepara all'esordio sulla panchina rossonera Milan che giocherà domenica sera in posticipo con il Lecce a San Siro e poi Stoichkov buttateci fuori dall'Europa l'ex pallone d'oro bulgaro contro i razzisti la FGC VAR contro i Bù dei tifosi vediamo il Corriere dello Sport Sarri Sinise emozione unica Mialovic è tornato in campo per allenare il Bologna e domani dovrà affrontare la Juve più forte della nuova era Napoli De Laurenti San Musoduro la voce del padrone e poi in basso la Roma spera nel bomber ecco Gieco in maschera fa le prove per la Sampdoria e poi l'intervista a Gasperini il tecnico dell'Atalanta non firmo per il terzo posto vediamo Tutto Sport 60 milioni Allegri che regalo alla Juve 60 milioni di euro tanto varrebbe Max al Manchester con Mangiukiz e Can fra stipendi risparmiati e soldi incassati vediamo poi in alto De Laurenti si insigna e decida cosa vuole fare abbiamo visto anche sugli altri quotidiani le dichiarazioni del patron campano nei confronti dell'ex pescarese poi Mialovic ieri in campo e oggi a Torino un bel tornato al tecnico del Bologna andiamo a vedere ora le pagine locali dello sport ripartiamo dal quotidiano il centro vedete la prima che riguarda però sempre lo sport nazionale De Laurenti insigne decida cosa fare da grande e insigne potrebbe anche decidere di lasciare a fine stagione il Napoli diamo uno sguardo anche a quello che accade oltre frontiera Barcellona caos a rischio il classico la sfida tra Barcellona e Real Madrid che potrebbe essere spostata proprio da Barcellona per via del clima di tensione che si respira in città per questioni politiche non sportive in questo caso parliamo del Pescara Fiorillo KO il Pescara nelle mani di Elan Castrati portiere titolare Vincenzo Fiorillo salta la sfida con lo Spezia Memushay giocherà playmaker contro i Ligori tra i pali il giovane albanese Ciofani out Vitturini Insidia Zapp mercato Melchiorri e Lamantia nel mirino della società ma per gennaio quando riaprirà il mercato andiamo a vedere allora le partite del turno di Serie B si parte questa sera alle 21 con l'anticipo Cittadella Cosenza e poi le altre gare Entella Trapani Juve Stabia Pordenone Pescara Spezia Venezia Salernitana Benevento Perugia Chievo Ascoli Pisa Crotone Empoli Cremonese Frosinone Livorno in basso parliamo anche della primavera bianca azzurra al poggio contro la Juventus alle 14 la diretta su Sport Italia con i baby di mister le grottaglie che sfidano i bianconeri di Zauli vediamo la prossima pagina parliamo del Teramo dietro fronte Tedino il Teramo non cambia l'allenatore dopo aver provato la retroguardia con tre difensori cambia idea e mantiene la linea a quattro in vista del Paganese vediamo anche il messaggero per quanto concerne la pagina relativa al Pescara e poi al Teramo Pescara i dubbi contro lo Spezia il tecnico Zauri non ha sciolto i nodi per la formazione che affronterà lo Spezia e poi la primavera vedete al poggio arriva la Juventus per lo scontro Salvezza in basso l'Aquila riparte dalla C domenica il Rieti la polisportiva l'Aquila è pronta a ripartire dopo le note vicende e poi Junior a 47 anni il bomber del calcio a 5 il più vol del Sulmona ha realizzato 6 gol ed è primo nella speciale classifica vediamo la seconda pagina di sport del messaggero Teramo in difficoltà calcia di riscatto dopo la sconfitta con il Potenza la squadra di Tedino si prepara ad affrontare la Paganese in 9 gare solo 8 le reti segnate dal Diavolo Iotti meno errori in campo e intanto a Rieti c'è area di crisi i giocatori scioperano per chiedere il pagamento delle spettanze parliamo anche di basket Sharks Roseto al top contro Imola ma serve l'aiuto dei tifosi basket di serie B Giulianova e Chieti ok Teramo brutto stop nelle gare giocate nel turno infrasettimanale parliamo anche di serie D con il notaresco capolista del Girone F che ha davanti l'ostico Porto Sant'Elpidio l'ostacolo marchigiano per la formazione di Vagnoni che non vuole fermarsi torniamo al centro torniamo al centro per andare a vedere le altre pagine di sport intanto parliamo di calcio di prima categoria perché c'è una notizia che riguarda un errore tecnico perché Atletico Lempa Favale si dovrà rigiocare il 30 ottobre la ripetizione e poi il pescarese Iaone a Shanghai la conquista del mondiale di Sanda seconda esperienza per l'atleta abruzzese in azzurro e poi il campionato di serie D sempre più avvincente con sei abruzzesi in campo nella prossima giornata ovviamente il match clou inutile sottolinearlo è quello dei Marsi di Avezzano dove si affronteranno la formazione Marsicana e la Bastese entrambe le squadre reduci da due sconfitte con tra l'altro una partita che vedrà di fronte anche due tifoserie che non si amano molto e dunque ci sarà anche un rafforzamento dei servizi all'interno e all'esterno dello stadio dei Marsi solo 150 i biglietti messi a disposizione dei tifosi aragonesi e Fanti chiude la porta l'amico Dos Santos Fanti portiere dell'Avezzano Dos Santos attaccante della Vastese ma ormai Avezzanese di adozione e dunque ci sarà anche questa sfida tra Fanti e Dos Santos vediamo quello che accade nelle altre squadre abruzzesi Notaresco Bosco Blando meglio come trequartista e poi il Pineto ritrova la Torres agli ottavi di Coppa Italia Alessandro torna in gruppo Chieti il Chieti cambia Grandoni avanti con il 3-5-2 però tornerà Brugaletta in difesa Giulianova in evidenza Ramco Cipriani e Barlafante negli ultimi allenamenti e poi dicevamo del derby di domenica al Dei Marsi Travezzano e Vastese parla il copresidente della Vastese Scafetta che dice c'è un derby da non fallire dopo la sconfitta di domenica scorsa non possiamo permetterci altri passi falsi ancora sport dalle pagine del centro pallavolo dia 2 domenica ci sarà il via al campionato nazionale maschile con una sieco in pavida ortona tutta da scoprire ci sarà l'esordio in casa con Mondovì poi la trasferta Reggio Emilia parliamo anche di volley i fuoriclasse da Nunziana si presentano le due società in assili di partenza nei campionati di serie C infine bocce la nuova Inox cerca il bis a Civitanova Marche i Moscianesi domani di nuovo in campo dopo aver vinto la prima di campionato in serie A parliamo di basket serie B Giulianova Teramo derby tra conferme voglia di rivarsa si giocherà domenica prossima intanto in casa Chieti parla il patron Marchesani fin quando sarò io il presidente il coach Cohen resterà alla guida della squadra parliamo anche di ginnastica ritmica russo a desio con le farfalle azzurro azzurre scusate campionato gold oro per Comignani Palermo Dobrovolska Paolini e Capo Zucco dell'Armonia di Chieti in basso il marsicano macera Mascitelli alla conquista del Gankapurna la pilista partirà alla volta del Nepal domenica con un gruppo del quale farà parte anche Patrizia Zauli di Civitella Roveto che però si fermerà all'altezza di 4.600 metri andiamo a vedere per chiudere le pagine dello sport del quotidiano La Città si parla ovviamente in primo piano del Teramo la crisi è spiegata grazie ai numeri statistiche Wiscot di inizio campionato la media dei dati biancorossi e quella degli avversari è molto simile avversari in questo caso parliamo della Paganese che sarà di scena domenica al Bonolis vediamo anche la seconda pagina di sport del quotidiano La Città lo spazio dedicato al CSI per la mezza maratona di L'Aquila si partirà dal centro stonico di Onna la corsa attraverserà i luoghi colpiti dal sisma possibilità di iscrizioni fino al 25 di ottobre in basso lo spazio dedicato al calcio Planet Café Giulianova vince ancora e resta da solo in vetta alla classifica siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 grazie a Claudio Di Giacomo in regia grazie a voi per la cortese attenzione appuntamento come sempre per l'informazione sulla nostra rete alle 14 per la prima edizione del TG6 grazie e buona giornata grazie a tutti